La situazione del coronavirus sta diventando sempre più seria. Da sabato notte per circa 18 milioni di italiani sono previste importanti restrizioni, a partire dalla impossibilità di uscire dalla zona in cui si abita se non per gravi e comprovati motivi. I limiti valgono fino al prossimo 3 aprile, ma c'è il rischio concreto che possano essere prorogati anche gli istituti scolastici ovviamente ne sono coinvolti. A questo punto è chiaro che i problemi della scuola passano in secondo piano. In alcuni ospedali del nord e della Lombardia in particolare i posti di terapia intensiva incominciano a scarseggiare e le autorità sanitarie stanno già lavorando per trasferire altrove alcuni malati. Ecco perché mai come in questo momento è necessario mantenere i nervi ben saldi e mettere in campo comportamenti improntati alla massima responsabilità individuale e collettiva. Dopo un confronto interno la nostra redazione, in pieno accordo con l'editore e con la direzione, in un momento così difficile, ha preso la decisione unanime di moderare i toni, di cercare di ergersi all'attendibile fonte informativa per i docenti, per gli addetti ai lavori e per gli stessi studenti. Così da essere vicino a chi, pur in una situazione sempre più surreale, sempre più difficile, con 8.300 istituti chiusi o senza attività didattica e 8 milioni di alunni a casa, si sta impegnando per mantenere un filo diretto con alunni e famiglie. La tecnica della scuola, l'attestata giornalistica specializzata in istruzione più antica d'Italia, vuole dunque offrire il suo contributo a chi crede che anche con il rischio dell'espandersi del contagio del pericoloso virus, qual è il Covid-19, la scuola non si debba fermare. Per questo motivo è nostra intenzione, più e meglio di prima, fornire ai lavoratori della scuola e a chi è implicato in qualche modo nella formazione delle nuove generazioni, gli strumenti e le conoscenze per continuare a credere in questa istituzione, malgrado tutto e malgrado l'inevitabile paura. Pubblicheremo certamente notizie e informazioni sulle decisioni del Governo e del Ministero dell'Istruzione e daremo anche spazio come doveroso alle critiche. Vogliamo però anche raccontare gli sforzi e le esperienze che tanti di voi in questo momento stanno portando avanti con alto senso del dovere, sempre con l'obiettivo di cercare di tenere viva la grande comunità scolastica italiana, anche con la didattica online. A questo riguardo, anzi, vi ricordiamo che martedì 10 marzo dalle ore 11 alle ore 12, il professore Michele Maffucci, da diversi anni formatore per la tecnica della scuola, realizzerà un webinar dedicato proprio alla didattica a distanza. Considerato l'enorme interesse riscontrato, il webinar andrà in diretta sulla pagina Facebook di Tecnica della Scuola Formazione, mettendo mi piace alla pagina, sarà possibile fruire gratuitamente del webinar. Quindi appuntamento per tutti a martedì ore 11 sul nostro canale Facebook dedicato alla formazione, ovviamente continuate a seguirci anche su questo canale e continuate a seguirci sulla pagina del sito www.tecnicadellascuola.it. Mandateci le vostre esperienze, i vostri commenti, i vostri suggerimenti, ne daremo conto come sempre.